Amici di Marcosbox, benvenuti o bentornati in questa nuova video guida. In questa video guida vi spiegherò come è possibile installare l'estensione Firefox Translations all'interno di Firefox per Android. Che cos'è Firefox Translations? È un'estensione sviluppata grazie al contributo dell'Unione Europea che consente a Firefox di poter effettuare una traduzione automatica lato client, quindi all'interno del browser web, delle pagine web senza dover far transitare il contenuto delle pagine su siti web di terza parte, quindi senza dover far passare per i server di Google o di Microsoft, quindi le funzionalità, insomma se avete presente, quelle dei traduttori integrati all'interno dei principali browser web basati su Chromium. È un'estensione molto importante, io l'amo e ha sempre supportato questa estensione perché consente di abbattere le barriere linguistiche ed è anche a mio avviso una delle caratteristiche che hanno fatto perdere un po' di quota di mercato diciamoci o anche a Firefox, perché Firefox era rimasto indietro, era l'unico browser che non supportava la traduzione delle pagine web e la gente ne risentiva, me compreso, perché magari ti ritrovi non soltanto a visualizzare safety in inglese, che magari dici l'inglese più o meno lo conoscono, le nuove generazioni massicano l'inglese, però magari ti capite di visualizzare un sito in tedesco o in francese, sono lingue che difficilmente magari uno conosce perché non li studia a scuola e quindi di conseguenza ci si ritrova spiazzati da questa barriera linguistica e per poter tradurre le pagine web eri costretto a copiare il testo all'interno di un traduttore oppure direttamente utilizzare un browser web che aveva un motore di traduzione integrato. Firefox, dicevo, non aveva fino a diverso tempo fa questa funzionalità integrata all'interno del browser e quindi era un macello. Dicevo, l'Unione Europea aveva deciso diversi anni fa, nel 2019, di finanziare questo progetto di Mozilla per sviluppare questo motore di traduzione di cui vi parlavo da integrare all'interno di Firefox. Ne è nata un'estensione, questa estensione era largamente utilizzata dagli utenti Firefox fino a qualche release file di Firefox perché non viene più utilizzata questa estensione? Semplicemente perché adesso la funzionalità, il codice che consente la traduzione delle pagine web è stato integrato all'interno di Firefox, quindi non c'è più bisogno di installare questa estensione all'interno di Firefox per attivare la traduzione delle pagine web. L'estensione però viene costantemente sviluppata ed è ancora attiva sul portale Mozilla dedicato alle estensioni. Purtroppo però questa estensione non è disponibile, non è ancora installabile all'interno di Firefox per Android. Nel tanto o meno Mozilla si è ancora pronunciato in merito all'aggiunta di questa funzionalità direttamente all'interno della versione mobile di Firefox. C'è però un workaround che mi è stato suggerito qualche giorno fa da Dado, uno dei lettori di Marcosbox, nonché anche uno dei più vecchi ascoltatori del podcast di Marcosbox, vecchio non d'età ma vecchio che mi segue da parecchio, che sapendo il mio attaccamento a questa cosa, sapendo il fatto che io rompo le scatole agli sviluppatori di Mozilla da diversi tempi, perché non lo integrate nei Firefox per Android, perché non lo fate, perché non lo... Finalmente c'è un modo per poter utilizzare. E Dado mi ha subito girato il workaround per poter farmi vedere com'è possibile Instagram anche su Firefox per Android. E io mi trovo subito qui a condividere con voi questo workaround, perché merita massima diffusione. Ed è anche un workaround che se lo vedete dice, ma che era così semplice? Io non ci avrò mai pensato. Chi ci ha pensato? È un genio. Ciao po'. Allora, ci troviamo su una pagina web, ci troviamo su Firefox per Android. Ci basterà andare su Firefox Translation, o meglio cercare Firefox Translation sul portale di Mozilla dedicato agli addons, quindi addons.mozilla.org.firefoxtranslation, vi lascio comunque il link in descrizione, e visualizzare appunto la pagina ufficiale dell'estensione di Firefox Translation sviluppata da Mozilla, che come potete vedere non è cliccabile. Perché? Perché siamo su browser web, su browser mobile, e quindi ci viene riconosciuta dal sito internet che non siamo arrivato a desktop e non ce la fa installare. Però se noi andiamo a cliccare sui tre puntini e mettiamo sito desktop, lo fottiamo, lo prendiamo in giro, facciamo pensare che sia la versione desktop di Firefox, e quindi adesso è possibile instagare l'estensione Firefox Translation. Qui ci viene mostrato, per consentire a inviare dati tecnici e anonimi a Mozilla per migliorare l'estensione, possiamo lasciare tutto attivo, quindi perché non è che ci spiano per queste cose. E adesso, che ne so, andiamo su Ars Tecnica, questa è la pagina di Ars Tecnica, e in inglese, come potete vedere c'è un quadratino in basso a destra, questo quadratino senza estensione non viene visualizzato, viene visualizzato soltanto quando è presente questa estensione. Cliccandoci, Firefox Translation, che vogliamo fare? Tradurre? Clicchiamo su Translate. La prima volta che effettuiamo una traduzione viene scaricato il motore di traduzione sul nostro dispositivo, quindi ci metterà un po' di tempo. In questo momento sono anche su 4G e con la VPN, quindi ci metterà un pochettino. Però, come potete vedere, la traduzione ha funzionato e ha tradotto la nostra pagina web. Adesso vi faccio vedere che cosa succede se vado su un'altra notizia. la traduzione è ovviamente più veloce perché non ci sarà più la parte dello scaricamento del motore di traduzione. Uno, due, tre. Non deludermi. Non mi sta facile accadere la connessione. Ah, ecco. Perfetto. Come potete vedere, anche su Firefox per Android possiamo sfruttare l'estensione Firefox Translations e avere la traduzione delle pagine web. Grazie a Dato per aver condiviso questa guida, questo workaround. Grazie soprattutto a Tizio che ha scoperto questo workaround per forzare l'installazione di Firefox Translations anche su Firefox per Android. E che dire, lunga vita e prosperità, lasciate un commento sotto il blog, anzi, sotto il video, facendomi sapere se anche voi utilizzate questa estensione, se anche voi siete contenti di questa cosa o se non ve ne frega assolutamente niente perché voi siete team Chrome e siete delle brutte persone. Ciao ciao!